se l'erioditore presenta riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in sud america di antonio manzini 14 ore sono lunghe infinite quando anche la prima classe ai sedili stretti e le ginocchia toccano la poltrona davanti arrocco sembrava di essere in volo da un'eternità ma il gps di bordo con tanto di cartina segnalava che l'aeroplanino in rotta verso buenos aires non aveva ancora superato quel corpaccione immenso dell'africa per gettarsi nell'oceano atlantico non era neanche a metà viaggio decollati alle 10 di sera da roma fiumicino l'arrivo all'aeroporto internazionale era previsto per le 6.45 dell'ora locale brizio era riuscito ad appisolarsi rocco aveva fumato sei sigarette prima della partenza poi con due pacchetti di nicorette era salito a bordo masticava già l'ottava gomma 14 ore senza nicotina era un'impresa mai tentata dal vicequestore a mente lucida solo quando era stato operato a rene l'aveva superata ma in totale assenza di coscienza grazie agli anestetici prima e agli antidolorifici poi quindi la prova non aveva nessun valore statistico l'aereo era pieno per fortuna o coincidenza nessun bambino era nel raggio di sei file di poltrone ce n'era qualcuno in coda troppo lontano per doverlo sopportare i bambini in aereo erano al nono livello della scala delle rotture di coglioni di rocco dieci anni prima erano all'ottavo ma l'età con il conseguente assottigliarsi della soglia della pazienza lo aveva costretto a promuovere di un livello quella infame lacerante spietata tortura che subiva nei voli sui treni o nei ristoranti ovunque insomma ci fosse un bimbo urlante capriccioso e accompagnato da genitori arroganti marzo in argentina era pieno autunno avrebbero trovato il freddo almeno secondo le previsioni che brizio aveva studiato con attenzione insieme a stella durante la preparazione del bagaglio li attendeva un tempo nuvoloso con possibili precipitazioni e temperature intorno ai 13 gradi centigradi in italia stavano spuntando i fiori e il cielo era azzurro dovevano partire perché furio non era più tornato era andato a cercare sebastiano le prime due settimane aveva dato qualche segnale poi più niente fine delle comunicazioni brizio non chiudeva occhio da giorni e aveva tartassato rocco convinto che dovevano raggiungere l'amico in argentina e cercare di scoprire se si fosse cacciato in un problema più grande di lui è andato a cercare seba lo cercasse aveva detto rocco alzando le spalle non aveva intenzione di mischiarsi in quella storia sebastiano l'aveva tradito un'amicizia lunga 40 anni e che amicizia non era dopo la morte di marina era stato il dolore più profondo della sua vita non voleva saperne più nulla di sebastiano dimenticarne la voce il viso e il colore degli occhi anche le storie vissute insieme sebastiano doveva trasformarsi in un'ombra una velatura nel mondo dei ricordi per dissolversi con gli anni fino a trasformarsi in fumo un filo grigio e sottile che si sarebbe confuso con l'aria e col cielo ma brizio stava male era agitato e stella preoccupata per il compagno aveva chiamato rocco più volte al telefono per intere mezz'ore non mangia e non dorme rocco soprattutto brizio non rideva più e quello era il segno peggiore rocco aveva già avvertito furio poco prima di partire che per lui sebastiano era una storia chiusa per sempre ma furio non poteva accettarlo io lo devo trovare continuava a dire e se pure lo trovi lo aveva sfidato rocco certo che non sarebbe successo niente brizio invece era convinto del contrario quello fa la pazzia rocco io me lo sento e per questo viveva con l'ansia sotto la pelle non dormiva e non rideva più furio si è ricordato di un vecchio amico di suo padre che da anni sta a buenos aires walter tagliacozzo gli aveva comunicato qualche giorno prima ma a rocco quel nome non diceva niente ma è un amico di furio sì sto walter era il primo dei sei fratelli io non me lo ricordo forse è un amico di famiglia suo boh comunque era gente del ghetto il nonno ci aveva il panificio a portico d'ottavia non mi ricordo brì l'aereo si era gettato nell'immensità azzurra dell'atlantico rocco alzò una mano per richiamare lo steward che si avvicinò mi porta l'acqua un'aranciata una coca cola no che ha la caffeina e già non dormo quello annui e sparì con un'espressione offesa sul volto la compagnia aerea era pessima in prima classe si stava stretti e scomodi il pasto sembrava preparato con gli avanzi di qualche tavola calda sullo schermo davanti al rocco proiettavano un film ma non aveva voglia di seguire immagini di auto che si rotolavano e gente che si gettava da grattacele appesi a una corda sventagliando sugli inseguitori colpi mortali con delle mitragliette aveva provato a cambiare canale ma c'era una commedia americana ambientata durante un matrimonio una commedia di un comico italiano di cui non ricordava il nome ambientata durante un matrimonio una commedia con un orso giapponese che faceva le boccacce eppure lì c'era un matrimonio fra due castori l'unica senza sponsali era una storia di fantascienza dove dei robot invadevano la terra e a salvare la razza umana restava un manipolo di eroi attori ben scelti fra le varie etnie per non scontentare le minoranze c'erano donne uomini neri asiatici eppure un nativo americano all'appello mancava un inuit ma quelli e rocco lo sapeva protestavano poco impegnati come erano a sopravvivere a 50 gradi sotto lo zero spense il piccolo visore montato sul sedile e si mise ad osservare con seria invidia la faccia di brizio spalmata sul poggiatesta sorretta dal cuscino a mezzaluna dormiva con la copertina tirata fino al mento gli venne voglia di mollargli un ceffone e svegliarlo tanto per rompere le palle passare un po di tempo in quell'infinito limbo che è un viaggio in aereo dove secondi minuti e ore hanno tutt'altra consistenza ecco signore e lo steward gli consegnò una piccola lattina di aranciata grazie l'aprì stava per bere un sorso quando capì se brizio non riusciva a dormire da giorni in un letto comodo e nel silenzio del suo appartamento com'era che adesso addirittura russava su una poltrona stretta e dura poggiò la bevanda si alzò aprì la cappelliera e prese lo zaino dell'amico ci rovistò dentro e trovò la boccetta di en merda e mica me lo dice l'infame mormorò l'aereo dormiva con le luci soffuse un uomo tre file dietro si era coperto il viso con un fazzoletto sua moglie gli era crollata addosso un leggero rivolo di bava le colava dal lato destro della bocca rimise tutto nella cappelliera e contò dieci gocce del medicinale nella bibita ma davvero era furio il motivo di quel viaggio se avesse dovuto rispondere in maniera superficiale alla domanda avrebbe detto sì ci tengo a furio voglio sapere se si è infilato in qualche casino e sebastiano aveva voglia di ritrovarlo di chiedergli guardandolo negli occhi che cazzo avesse combinato davvero stava volando fin laggiù solo per furio oppure una parola una scusa un ultimo abbraccio da sebastiano lo pretendeva quando riaprì gli occhi sul monitor il piccolo aeroplano sospeso sulla cartina stava sorvolando l'uruguay nessuno dei due era mai stato a buenos aires appena usciti dall'aeroporto si accesero una sigaretta e respirarono appena i polmoni più che fumarla l'assorbirono in un succhiare continuo avvelenato bruciando il tabacco in sole quattro boccate conta che in taxi non se può fumare disse brizio quando se ne accesero un'altra allora rocco che te ne pare sta a buenos aires abbrì ma che cazzo ne so stiamo sotto alla pensilina dell'aeroporto che te posso rispondere vero finita la seconda sigaretta si misero in fila con gli altri passeggeri a bordo marciapiede il cielo era grigio e rade gocce di acqua macchiavano il parabrezza del taxi dall'aeroporto all'albergo restarono in silenzio a osservare la città che pian piano si avvicinava quartieri allucinanti casermoni senza finestre grigi e cadenti parevano set di qualche film apocalittico la villa 31 disse il tassinaro pronunciando vigia i quartieri malfamati le bidonville di buenos aires dove la gente non era neanche iscritta all'anagrafe poi se lamentamo noi di torbella monaca osservò brizio ovunque infilassero lo sguardo c'era fame abbandono morte entrarono in città si stupirono delle strade gigantesche dei grattacieli e dei giardini tenuti bene buenos aires stava ancora sonnecchiando poco traffico brizio era affascinato dagli strani camion che viaggiavano sulla corsia più lenta abbandonarono la grande arteria avenida 9 de julio girarono intorno a un enorme piazza dominata da un parco pubblico fino a raggiungere l'albergo il quartiere si chiamava retiro l'albergo pulitzer pagarono l'autista felice di incassare gli euro e presero possesso delle stanze dalla finestra rocco vedeva le budella dei palazzi di fronte centinaia di tubi di tutte le grandezze vene o intestini di quei bestioni che scaricavano liquami e sporcizie nelle fogne decine di antenne buchi nelle pareti piani inclinati sporchi di muffe e infiltrazioni poche finestre piccole buie si stese sul letto aveva sonno e bisogno di lavarsi non avevano un piano e due contatti quello dell'amico del padre di furio che abitava lì ormai da 30 anni e la banca dove sebastiano aveva il conto anche se le speranze di risposte da quelle parti erano molto esigue per non dire inesistenti l'acqua che gli scorreva sui capelli e sul volto sembrava restituirgli energia e presenza di spirito ora che si era lavato via 14 ore di volo poteva rivestirsi controllò la finestra era bloccata impossibile aprirla quindi di fumare in stanza non se ne parlava scese nella hall elegante coi mobili scuri le decorazioni in oro un incrocio fra a cina milano moda e una cappella cimiteriale di famiglia una musichetta finto indiana soffusa tentava di dare un senso di rilassatezza all'ambiente invece a rocco faceva solo girare i coglioni uscì e si accese una camel le strade del quartiere erano piccole i negozi puliti poteva trovarsi al centro di barcellona di madrid di palermo insomma di una qualsiasi grande città del sud europa aveva voglia di visitare la capitale argentina di comportarsi come un qualsiasi turista ma il tempo per quelle attività era finito da un pezzo per rocco spazio per la leggerezza non c'era più furio era alla ricerca di sebastiano da 15 giorni il vantaggio era incolmabile e lui voleva trovare sebastiano prima di furio questo era il nodo del problema prima che succedesse qualcosa di irreparabile le ultime parole di furio erano state di vendetta di rabbia e di frustrazione non poteva permettere che fra i due succedesse ciò che pareva inevitabile dall'angolo spuntò brizzio energico e sorridente eccolo aprì una busta di plastica e consegnò un cellulare a Rocco tiè usamo sti cessi di telefoni argentini c'ha il mio numero in memoria e io c'ho il tuo e io c'ho il mio numero in memoria